buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi risponderò ad una signora la quale ha acufene fischi rumori fastidi nelle orecchie e che da più di 4 5 mesi a circa 30 anni e che non ce la fa più non ce la fa più per trovare la soluzione al suo problema anche se da poco tempo ha utilizzato degli audio mp3 che trova su internet però dopo dice un po di tempo dopo una mezz'oretta il problema ritorna io specifico e pubblico questo video conservando sempre l'anonimato la privacy perché l'associazione ipnologi associati los angeles e il sottoscritto conservano la privacy ai massimi livelli non esce nulla dalla delle nostre banche dati in tutto il mondo grazie a dio e voglio soltanto mettere l'accento sui supporti mp3 dcs di autipnosi vera e professionale del dottor claudio saracino che sono supporti mp3 altamente profondamente professionali che non hanno nulla che vedere con ciò che si trova in giro di meditazione o di altro genere anche della stessa ipnosi conformista e commerciale anche a los angeles perché sono cose diametralmente opposte per tanti motivi uno dei primi dei motivi principe è che il metodo dcs di autipnosi dcs vera e professionale di ipnosi vera e professionale è unico al mondo e non segue il filone né di milton erickson né di brian weiss né di deve elman né di altri grandi dell'ipnosi conformista e commerciale per cui ti invito a seguirmi invito e chi ha acufene fischi nelle orecchie rumor nelle orecchie a provare un audio mp3 dcs dal titolo no acufene veramente profondamente altamente professionale e non non giocattolo come lo definisco io e può farmi sapere ok visita la mia fanpage su facebook ipnosi ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino faccia il condividi con amici e parenti che hanno il problema dell'acufene perché può essere quel quid o quella molla che gli può fare cambiare la vita se non hanno voglia di andare presso un professionista dell'ipnosi della loro zona sedersi e parlare e provare a risolvere il problema naturalmente chiedendo se già hanno affrontato casi di ocufene con l'ipnosi vera e professionale altrimenti se non ha voglia di girare cappello usa un audio mp3 dcs di autoipnosi vera e professionale attenzione qua parliamo di cose altamente professionali e poi visita anche i profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino poi se hai dubbi quei siti ti risponderò gratis non ti fare paranoia scrivimi compatibilmente miei tempi e impegni perché sono spesso all'estero io ti risponderò gratis ok un bacio e un abbraccio dal dottor claudio saracino e alla prossima